I nostri morti, quelli che ci hanno preceduti, i quali sono vivi nel Regno di Dio, ormai sono tanti, quelli del nostro gruppo, che godono la gloria del Signore. Cerebreremo anche una Messa per loro, però vorrei che noi guardassimo alla morte come alla nascita di una nuova vita, e che prendessimo un po' la vita che viviamo nella sua dimensione veramente cristiana, che è quella dell'attesa, della parousia, una dimensione scatologica. Siamo sempre abituati a guardare al presente, e quando guardiamo al futuro, guardiamo al futuro in questa vita, ma la nostra vita, il futuro della nostra vita, non è qua giù. Sì, la società si evolverà, la città terrena crescerà, non sappiamo quale sarà il corso della storia, i giovani nostri sono protesi verso il futuro, anche noi siamo protesi verso il futuro, e ci disincagliamo dal passato, però corriamo il rischio che disincagliandoci dal passato perdiamo il contatto vitale con le radici, e corriamo all'altro rischio che, proiettati verso il futuro, un futuro terreno, noi dimentichiamo che la nostra vita è breve, e da un momento all'altro noi cambiamo vita, cioè la vita dell'eternità. E allora questi due pericoli dobbiamo noi scongiurare, questo sradicamento dal passato, che è proprio dalla nostra epoca, i giovani di oggi non vogliono sentire del passato, sono proiettati verso il futuro. Anche noi possiamo essere coinvolti in questa tensione verso il futuro, dimenticando il passato e quasi tagliando le fonti vitali, ossia il contatto con le radici. Fermatevi per un po', dice il profeta, informatevi circa le strade del passato, per vedere se la strada che adesso percorrete è quella buona, cioè questo fermarsi e guardare al passato, questo guardare le radici, questo non perdere il contatto con la realtà da cui veniamo, è sempre una cosa buona, perché affondare lo sguardo delle radici, succhiare sempre delle radici, che sono radici buone, da vitalità nuova, per camminare verso il futuro. Dall'altra parte dovremmo evitare l'altro pericolo, che siamo portati dalla corrente, verso novità, 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 però terrene, ora l'uomo non ha un avvenire terreno, sì la società si può evolvere, possiamo avere nuove scoperte, ci possiamo sentire in nuove posizioni, possiamo viaggiare col nuovo metodo che stanno scogitando, pare che ci si riesce, però ancora un metodo non è applicato sempre, non è facilmente applicabile, per esempio, si viaggerà stando ferme, aspettando il moto della Terra, per cui l'aeroplano, l'arrivolo va in stratosfera, aspetta che la Terra deve andare qui a New York, siccome il moto della Terra è più veloce, e allora arrivato in quella posizione, si scende, per cui si sta fermi in aria, in attesa che giri la Terra, e noi caliamo, stanno scogitando, come tra tante strade nuove invenzioni, può darsi che ci si riesca, cioè si va verso i nuovi modi di vivere, però questo non ci deve fare dimenticare che la vita è breve, e che da un momento all'altro noi cambieremo modo di vivere, una vita dell'aldilà, per cui guardare all'aldilà, non con preoccupazione, ma con serenità, perché si nasce a vita nuova, la vera vita per il cristiano è quella che verrà, è la vita presente, è una preparazione alla vita futura, e allora dobbiamo noi trarre forza dalla vita presente, per una migliore vita futura, vivere bene, vivere saggiamente, risol dire che dobbiamo vivere per ben morire, non dobbiamo dimenticare questa verità, che è una verità che costatiamo ogni giorno, quanti dei nostri che c'erano l'anno scorso non ci sono più, quanti allietavano della nostra riunione, qualche mese fa, adesso non ci sono più, ecco, e allora non perdere mai questo contatto con l'aldilà, nel senso di avere, dare una dimensione scatologica alla nostra vita, e vivere nello spirito della parosia, cioè nello spirito dell'attesa, in attesa della venuta del Signore, gli anticristiani si salutavano Maranatha, Maranatha, questo è il saluto comune, il Signore viene, il Signore verrà, Maranatha, Maranatha, noi prima dicevamo Gesù Cristo, salutate Gesù Cristo, adesso questo saluto non c'è più, quasi nessuno lo dice, ce l'ho dato è Gesù Cristo, soltanto qualcuno degli antichi, ora c'è ciao, questo significa, un po' il saluto di vedersi, pace a bene, perché è il saluto francescano, gli antichi era Maranatha, cioè il Signore viene, il Signore verrà, vivevano per la parosia, per la venuta del Signore, ora non perdere questa dimensione, perché questa dimensione è come un sale che bonifica la nostra vita, è un antidoto per la nostra vita presente, non per spaurirci della vita futura, ma per attendere con serenità e con gioia la vita futura perché è la vita vera, la vita della piena gioia. E allora la festa dei Santi che noi ci accingiamo a celebrare ci deve far ricordare questa vita futura in cui saremo anche noi un giorno e il giorno dopo quella dei morti si fa ricordare che questa vita nostra è breve e che anche noi un giorno andremo con loro e intanto il loro ricordo deve essere sprone per noi, deve essere così incitamente per noi a vivere saggiamente. Alleluia. Alleluia. Sospettare 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 Niente Lakes Qui Qui la gente al fondo ciò che si servono ciò che il nostro porto è messa tra cui ci sono un po' insomma La mia vita è la mia vita è la mia vita. Se sono inizio, si è semplice. Se sono inizio, si è semplice. Se le cose sono inizio, si è semplice. NARANI NANAYO LARANA YORONAYU YUMARANO MAISARANA INIMIARENA MIARANEDI NARANI GARO MARIRIANA VAI ENTA GONAI SU SUMAENAYO LARANI LARANA YORO ORURHANU GAYO 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 MARIREN GAYO RUคARUSHO MARIREN GAYO entre NIMIAR жизни NARANI ALANGANEM LABIS Per esempio, grazie a Lui è non lasciarci distrarre delle cose terrene fino a dimenticare Lui. Signore, noi non vogliamo lasciarci così trarre talmente dalle cose terrene fino a perdere la visione dalle cose celeste e vogliamo camminare sempre dietro a Te ed essere buoni ascoltatori nella Tua parola di vita. Glorie e glorie a Te, Signore. Glorie e glorie a Te ed essere buoni ascoltatori nella Tua parola di vita. Glorie e glorie a Te ed essere buoni ascoltatori nella Tua parola di vita. E non perdere mai la Tua visione, anzi la vista di Te deve accompagnare tutta la nostra vita, soprattutto quando noi ci mettiamo a pregare. Vogliamo forzare lo sguardo in Te, unico mediatore tra Dio e gli uomini e vogliamo pregare in Te. E adesso vogliamo ascoltare quello che tu ci dici in questo brano della Lettera del Tessaloniciensi. Capitolo quinto. Vi esortiamo fratelli, correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i reboli, siate pazienti con tutti. Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. State sempre rieti, pregate incessantemente. In ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E non gli spegnete lo spirito, né disprezzate le profezie. Esaminate piuttosto ogni cosa, tenete ciò che è buono e astenetevi da ogni specie di male. C'è tutto un programma di vita, oh Signore, che tu ci ricordi. Un programma di gestione del gruppo, perché va davanti a cambiare nella via della giustizia e della santità. Ecco, tu ci dici tante cose che dobbiamo fare e che noi vogliamo ancora ricordare. E cioè, non manchi mai la correzione fraterna. Soprattutto su quelli che con la loro indisciplinatezza turbano il retto cammino della comunità. Poi ci dici di confortare i pusillanime e di sostenere i deboli, cioè avere cura dei piccoli, dei meno forti, di coloro che non ce la fanno, perché siano solidificati nella fede, confortati nello sconforto. E in tutto, poi ci dici siate pazienti con tutti, tu vuoi che noi non ci aderiamo mai, abbiamo pazienza gli uni verso gli altri. Oppure quando dall'esterno la vita ci viene resa più difficile, quando partiamo tribolazione dall'esterno, essere pazienti. Poi ci ammonisci a riguardarci dal rendere male per male, ma di cercare sempre il bene. E una cosa importante che ci raccomandi è di essere sempre rieti. La letizia di cui parlano gli apostoli, di cui parla l'apostolo Giacomo, anche nelle sofferenze, nelle tribolazioni. Non perdere mai la gioia, perché la gioia è un dono tuo, è il dono dello Spirito. Signore, fa che noi siamo sempre rieti. E poi, quella bella raccomandazione che tu ci fai di pregare senza mai stancarci. Tu ci hai detto pregate senza intermissione. E qui l'apostolo ci dice di pregare incessantemente, cioè la continua preghiera dentro di noi. La preghiera che non cessa mai. Diventare preghiera continua. Questo è il motto che viveva Don Francesco e che dovremmo vivere anche noi. Rendendo grazie a Dio. Signore, ti chiediamo di non spegnere lo Spirito che tu ci hai dato. È chiaro che lo Spirito Santo non può essere spento da stoffi dell'uomo. Ma noi possiamo smorzare gli effetti della presenza dello Spirito dentro di noi e vivere come se lui non ci fosse. Tu ci richiami ad ascoltare le profezie, perché le profezie prevengono da te. Però essere attenti a non accettare tutto, ma avere il discernimento, di trattenere quello che è buono e di scartare quello che è meno buono. Ed avere così le facoltà ad usate a discendere il bene e il male, i vari sapori, quello che più vale e quello che vale meno. E l'ultimo ad estenerci da ogni forma di male è un programma di vita, Signore, che tu ci proponi per vivere correttamente la vita nello Spirito. E ti ringraziamo perché ci ha ricordato questo programma pratico, perché è facile pregare e deduzialmarci, ma è difficile vivere santamente, giorno per giorno, secondo i tuoi comandamenti. Glorie e glorie a te, Signore. Signore ci esorta l'amore che ci andevole, non un amore campato in aria, ma un amore che procede da Lui, che è presente in mese a noi. Il Signore ci ha dato tre parole che dobbiamo fissare dentro il nostro cuore. Queste tre parole sono queste, sono con te, sono con te. Il Signore è con noi, è con ciascuno di noi. Adesso il Signore ci ricorda un test del Deuteronomio. Io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, dei suoi reggi, dei suoi norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo ti benedica nel paese dove tu stai per entrare e che tu possederai. E poi continua, però, se il tuo cuore si volge indietro, allora io non sarò più con te. Qual è il senso di queste parole? Io ti comando, aspettate un po', io ti comando, è un comando di Dio, di amare il Signore tuo Dio. Questa parola amare significa dirigere, predirigere, cioè scegliere Dio. E' un atto di volontà, e' una scelta, e' un'amora di predirezione tra tutto e tutti, ecco, fissare il cuore in Dio, scegliere Dio. Dio e' la scelta fondamentale della mia vita. Dio e' il mio tutto. Tutto l'altro e' conseguenza. Per questo tu osseguerai i miei comandamenti, tu farai quello che io ti comando, perché in questa è la tua vita. Signore, noi ti ringraziamo, perché tu ci dici ci ricordi che l'amore per te, ossia la scelta di te, e' il fondamento della nostra vita. E' per questo che noi vogliamo restare con te, vogliamo pregarti, vogliamo amarci tra di noi, vogliamo osservare i dieci comandamenti, perché abbiamo fatto una scelta fondamentale, quella del primo comandamento, e c'è la risposta al primo comandamento, io sono il Signore, il Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Signore, tu sei il mio Dio, io scelgo te anche questa sera, rinnova la scelta di te, o Signore, come l'unico bene della mia vita, come l'unico amore, questa è la mia scelta, Signore, e in questa scelta voglio perseverare fino alla fine. Glorie e glorie a te, Signore. questa è la norma della vita, non ti allontanare mai da questa norma, non andare né a destra, né a sinistra, né in alto, né in basso, questa è la norma in cui tu devi fissare te stesso, perché osservando questa norma, tu vivrai. Ecco, è 30-16 e la preghiera su cui Padre Matteo ha fatto la bellissima sua il suo insegnamento, ringraziamo il Signore, lo ringraziamo soprattutto perché come al solito è sempre chiaro, le sue parole sono chiarissime, nessuno di noi può avere attenuanti o scuse, nessuno, Signore, può dire non ho capito, non ho capito bene, perché tu sei molto chiaro e stasera lo hai detto chiaramente. Abbiamo davanti o Signore due porte, una della vita e una della morte, sta a noi scegliere. Signore, tu ci lasci liberi, ci lasci liberi o Signore di scegliere la vita o la morte, la vita dello Spirito o la morte dello Spirito. Ma stasera anche noi assieme a Padre Matteo ti diciamo scegliamo la vita o Signore con te, scegliamo la via che porta a te o Signore. Ti abbiamo eletto nostro Dio e ti seguiremo. Grazie o Signore Gesù. e il Signore ci invita questa sera a scegliere Lui e tutti dovete fare la scelta di Lui dovete tutti intervenire e il Signore ci dice voglio ascoltare la voce del mio popolo e ognuno di voi morma la propria scelta. a tre persone il Signore ripete queste tre parole io sono con te sono con te e per te persone angosciate sono con te io entro nella tua angoscia e ti do la mia pace ti do l'assicurazione che sono con te e ti assicurerò tutto quello che è secondo il mio disegno di amore per te crede al mio amore adesso dobbiamo un poco ripetere cioè uno per uno noi tacciamo ma voi uno per uno dovete parlare scegliere il Signore gridare al Signore perché la preghiera sia una preghiera corale partecipata da tutti e sia tutto il popolo che preghi o meglio che Cristo presenti in ognuno di noi con la voce di ognuno alze e grida a Dio nostro Padre non angustiatevi per nulla ognuno parla ognuno di voi il popolo esponete a Dio le vostre richieste una alla volta una alla volta abituatevi a parlare a gridare a Dio popolo muto Signore vuole un popolo che parli perché lui è un Dio che parla il colloquio consiste nel parlare tu e nel parlare io insieme una volta e due una volta io nostra casa abbiamo scelto te era il giuramento che fece Josué che fece fare a tutto il popolo radunato a Sicem davanti al testimone che era una roccia con occhi e orecchie davanti alla pietra voi oggi vi impegnate a questo vi è testimone questa pietra che occhi per vedere e orecchi per sentire io e la mia casa in quanto a me io e la mia casa scegliamo il Signore così anche una di voi questa sera dobbiamo ripetere questo giuramento in quanto a me io e la mia casa scegliamo il Signore ecco scegliere via ci possono essere fatte tante proposte allettanti belle che ci possono scornare la testa e ubriacare però noi abbiamo fatto una scelta questa scelta questa scelta è Dio io ho scelto Dio e non c'è altro scelta Signore fa che questa scelta che noi abbiamo fatto di te sia così fissa in noi che mai noi ti intendiamo messi di fronte alla prova ho scelto e ti chiedo questa sera di darmi il tuo spirito perché io sia fedele a questa scelta ho spirito di Dio ho spirito santo che mi hai dato la luce e la forza che mi hai fatto scegliere di Gesù fa che io non recezzerò mai da questa scelta spirito santo dimora dentro il mio cuore che in cui ci sarai tu dentro di me nella mia casa Cristo sarà il Signore della mia vita e della vita della mia famiglia alleluia nel nome del Padre e del Figlio e dello spirito santo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito santo sia con tutti voi e con tutti voi fratelli e sorelle celebriamo il mistero dell'Eucaristia tutti siamo compartecipi c'è il celebrante ma voi siete i concelebranti ognuno per la sua parte Cristo offre se stesso ma voi in Cristo siete l'offerta nel Stegerdote e Cristo che offre ma nell'ossi e nel calice siete anche voi offerti al Signore in Cristo Gesù viviamo questo mistero perché da questo mistero scende in noi la vita confesso a Dio onnipotente Dio Dio i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore Dio, venite nel cielo per il Paglio di Ponte. Signore Dio, il Paglio di Dio, Dio del Paglio di Paglio. Un vieto libertà vivere il mondo, a vivere la vita di noi. Un vieto libertà vivere il mondo, ha corrido la nostra sumità, un vieto libertà vivere il mondo, a vivere la vita di noi. Un vieto di sango, 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 Io salutiamo e ci mettiamo grazie e trattiamo in mezzo a te. Amén, Amén. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno crea in noi un cuore generoso e fedele perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e viveregno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli Dio Onnipotente ed Eterno Dio Onnipotente ed Eterno Dio Onnipotente ed Eterno Dio Onnipotente ed Eterno il mistero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto brevemente dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito che i gentili ce sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza a me che sono l'infimo fra tutti i santi è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risprendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio creatore dell'universo perché sia manifestata ora nel cielo per mezzo della Chiesa ai principati e alle potestà la multiforme sapienza di Dio secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore il quale ci dà il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui parola di Dio da Gesù Cristo la salvezza e la gioia ecco, Dio è la mia salvezza io confiderò, non temerò mai perché mia forza e mio canto è il Signore egli è stato la mia salvezza attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza da Gesù Cristo la salvezza e la gioia lodate il Signore invocate il suo nome manifestate tra i popoli le sue meraviglie proclamate che il suo nome è sublime da Gesù Cristo la salvezza e la gioia cantate igne al Signore perché ha fatto opere grandi ciò sia noto in tutta la terra gridate giulivi ed esultate abitanti di Sion perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele da Gesù Cristo la salvezza e la gioia ragazzi Alleluia! 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 Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. Alleluia! Alleluia! Dal Vangelo secondo Luca. Alleluia! 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 Gesù disse ai Suoi discepoli, sappiate bene questo, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il lavro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Alleluia! Allora Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi, la dici per tutti. Il Signore rispose, qual è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo della sua eredità per distribuire a tempo debito la razione di cibo, beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro. In verità, vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicessi in cuore suo, il padrone a tardi a venire e cominciasse a percuotere i serve e le serve, a mangiare, vero, ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui non ci pensa, non se la spezza neanche, in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto tra gli infederi. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto e agito secondo la sua volontà, riceverà molte percorse. Quelli invece che, non conoscendo la sua volontà, avrà fatto cose meritevoli di percorse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto, neanche fu affidato molto, sarà richiesto molto da Lui. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il lettere, su questa parola del Signore, Innanzitutto il Signore ci dice di essere pronti, pronti alla sua venuta, si parlava di una dimensione scatologica che dobbiamo dare alla nostra vita e di essere in continua parousia, cioè in attesa della venuta del Signore. Signore, ricordate la bella antifona che noi diciamo subito dopo la consagrazione del calice, Signore, noi annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta. La vita del cristiano è annunciare la morte del Signore, proclamare la sua risurrezione, lui è morto e risolto per noi e per tutti. Però in attesa della sua venuta, siamo in attesa che lui venga, verrà nell'ultimo giorno, a giudicare tutti, vive e morti. Giudicherà tutto il mondo, a prescindere dalle religioni, dalle filosofie, da tutto quello che l'uomo crede, tutto il mondo, tutte le genti saranno giudicate da Cristo, Signore. E il giudizio vergerà soprattutto sull'amore e sul riconoscimento di Lui mi avete riconosciuto. Chi non riconosce il Signore sarà condannato, chi non crederà sarà condannato. Ma riconoscere significa trattare per quel che si conosce, riconoscere Gesù presente nel povero, l'ammalato, presente in tutti, riconoscerlo. C'è non soltanto una professione di fede in Gesù che è vivo, che è presente, ma anche un trattamento di amore verso colui che riconosciamo presente. E sulla fede e sull'amore che noi saremo giudicati. Questo verrà nell'ultimo giorno per tutti, però c'è un'attesa del Signore personale. E Lui verrà quando meno ce l'aspettiamo. Ricordate il nostro fratello Pino, bello, aiutante, servizievole, amoroso con tutti, in ottima salute. E' riuscito di casa con tanta gioia per andare alla Messa del Mezzogiorno. E' proprio là, quando era per strada, c'era di casa, un colpo. Quando meno se l'aspettava. Sono le parole del Signore. Non è che a tutti avvengono la stessa cosa, però il Signore ci dice di essere pronti, perché non sappiamo quando Lui verrà. E quando Lui verrà, ecco il rendiconto, di come abbiamo trattato gli altri. Perché nella casa di Dio tutti siamo i servitori. Il giudizio sarà duro per coloro i quali stanno un po' in alto e possono maltrattare gli altri. Il giudizio sarà duro per coloro che sono in alto e per coloro che hanno molto ricevuto. Mentre sarà più benevole di giudizio per quelli che stanno in basso e per quelli che hanno poco ricevuto. Gesù porta questa frase. Chi conosce la volontà del padrone, sa come ha detto che bisogna comportarci. Sa che cosa vuole il padrone, e non lo fa. Quando Lui verrà, se lo troverà manchevole, allora avrà molte percorse, molte percorse. Cioè c'è chi sarà escluso tra gli infedeli. Quelli, i quali non saranno esclusi, riceveranno molte percorse. Poche percorse invece riceverà chi ha fatto le stesse mancanze. Però non sapeva che questa era la volontà del padrone. Non conosceva bene. È chiaro che un ballume di conoscenza ce l'aveva. Ma non sapeva esattamente quelle che voleva il Signore. e allora riceverà il castigo, però un castigo minore di colui il quale conosceva bene la volontà del padrone e non fece la volontà del padrone. In questa condizione possiamo trovarci noi. Noi a volte pensiamo, chissà, che sarà di tanta gente che non conosce il Signore, che va per le vie del mondo, che trasgadisce i comandamenti di Dio, mentre noi, noi, noi siamo vicini a Dio. Tenti al giudizio. Perché quelli che conoscono poco, che non hanno un'esatta conoscenza della volontà di Dio, riceveranno, sì, il castigo, ma è un castigo più mite di quello che subiremo noi, i quali abbiamo conosciuto di più e se abbiamo fatto le stesse cose di quelli che non conoscono, riceveremo un castigo maggiore, il doppio, il tipo di loro. Per cui non bisogna stare con l'animo tranquillo. Perché Gesù conclude a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto da lui e a chi fu affidato molto sarà chiesto molto di più. A noi è stato dato molto, quante parole di Dio, quante messe, quante sacramenti, quanta opportunità di convertirci, di fare la volontà del Signore, quanti richiami. Se nonostante questi richiami, tante parole di Dio, tanti sacramenti che abbiamo così a nostra disposizione, noi camminiamo come i pagani, facciamo come la gente del mondo, noi riceveremo un castigo doppio, il triplo, di quelli i quali non sono vicini a noi, vicino alla Chiesa e camminano un po' alla buona. Trasgueriscono quelle stesse cose che noi trasgueriamo per conoscere il Signore. E allora attenti a come noi camminiamo e attenti al giudizio che noi formuliamo sugli altri. Una cosa sappiamo che il buon Dio vuole bene a tutti. dice che Gesù si è incarnato per tutti, che non ci sono più direggi per nessuno. Qui Paolo ci dice che il Signore l'ha messo a conoscenza del grande mistero nascosto nei serbi per i secoli a quelli che lo hanno preceduto. che Dio ha esteso la salvezza anche i pagani. Per gli ebrei questa era è l'unicea a Pandonio. I salvati siamo noi gli scelti siamo noi noi siamo il popolo a letto gli altri sono i cani gli altri sono fuori dalla salvezza invece Paolo ci dice no la salvezza è per tutti perché il nostro Dio è il Dio di tutti il Dio degli ebrei ma anche il Dio dei cosiddetti infedeli il resto come ha detto Gesù tanto il Padre amato il mondo da mandare il suo figlio non perché il mondo si danni ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Dio vuole la salvezza di tutti per cui salverà tutti tutti quelli che in certa maniera conoscono lui attraverso la luce della verità che filtra anche nel mondo pagano salverà tutti quelli che saranno buoni in cui un raggio dell'amore della bontà di Dio dirige le azioni degli uomini allora il buon Dio anche per quelli che non lo conoscono e chiaramente che non sanno bene tutti i comandamenti di Dio il buon Dio sarà largo e anche per questi ci sarà la salvezza e allora stiamo con i piedi così per terra serviamo il Signore camminiamo nella via del Signore lavoriamo per il Signore in attesa della sua venuta quando quando lui verrà ci chiamerà su servo buono e fedele entro nel gaudio del tuo Signore anzi non ci chiamerà più servo ma ci chiamerà amici è una parola che ricordo qui proprio nell'antifona dell'Elluiatica e vi ho chiamato amici dice il Signore perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere tra gli amici si dice tutto quando quando non si dice tutto un po' l'amicizia comincia a barcollare quando abbiamo delle riserve quando nascondiamo qualche cosa non c'è più la vera amicizia qui dice io vi ho chiamato amici tutto quello che sto di mio padre ve l'ho detto tutto tutto quello che potete comprendere anzi io vi do il mio spirito perché adesso se vi le dicesse tutte le cose saresti incapace di comprenderle però vi manderò il mio spirito che prende da me dalla mia conoscenza e vi annuncerà tutto vi condurrà la conoscenza della verità tutta piena e anzi vi rivelerà anche le cose future perché nulla si è nascosto tra di noi noi siamo amici essere amico di Dio dobbiamo puntare fratelli e sorelle a diventare amici di Dio tra gli amici c'è intesa un amico non tradisce l'altro amico un amico fa quello che vuole l'altro amico un amico vuole stare con l'altro amico quando c'è l'amicizia si è spartano il sonno come diciamo e noi non abbiamo spartano il sonno con Gesù il nostro amico dobbiamo vivere con lui per ora lui sta con noi qua poi ci prenderà ora andiamo nella casa di papà nella casa mia a casa mia ma stiamo insieme per ora io sto con voi nella vostra casa terrena sono con voi fino alla conservazione del mondo ma poi vi prenderò e vi porterò a casa mia alla casa di mio padre e lì si sarà meglio che qua perché nella casa di mio padre c'è di tutto la morte non ci sarà più non ci sarà più lutto né pianto tutte le cose brutte di questo mondo saranno così spariranno non ci sarà i fratelli e i fratelli questa è la parousia l'avvenuto del Signore e questa è la dimensione escatologica in cui dobbiamo vivere la nostra amicizia con Gesù ha